La CGL chiama raccolti i cittadini per la causa degli esposti a mianto. L'obiettivo è quello di fare pressione sul Parlamento in modo che vengano temporaneamente riaperti i termini dei benefici previdenziali previsti dalla legge 257 del 92, non più operativa dal 15 giugno 2005, che di fatto sta escludendo molti aventi diritto. Abbiamo chiesto che per quei comuni, quindi Trieste è un provvedimento che riguarda tutto il paese, in cui c'è un'evidenza epimediologica in controtendenza rispetto a quella nazionale ovvero in crescita, noi abbiamo i dati di quest'anno che aumentano le vittime sull'amianto, ci sia la riapertura per sei mesi degli sconti pensionistici previsti dalla legge del 92. La proposta dovrebbe passare all'interno della legge di bilancio in fase d'approvazione, ma l'attenzione sul tema, spiegano i sindacalisti, deve rimanere alta per evitare possibili passi indietro. L'appuntamento è lanciato dalla CGL e per giovedì 23 novembre in piazza dell'Unità d'Italia sotto al Palazzo della Prefettura. Lo facciamo in piazza Unità, quindi sensibilizzeremo il prefetto affinché sensibilizzi il Parlamento tutto, perché adotti questa misura che riaffermi i diritti per tutti coloro che sono rimasti fuori dal 2005 in poi.